E' valido, la seduta è aperta. Mi è stata fatta richiesta per fare una piccola sospensione, una riunione dei capogruppi. Quindi sospendiamo per 5 minuti, 5 minuti proprio 5, e facciamo questa conferenza dei capogruppo. Dove la facciamo? Sala giunta? Alla, i capogruppo in sala giunta, grazie. Annaggia la miseria. Sentiamo sempre un po' di musica. Grazie. Grazie.